Eccoci qua ben ritrovati da Giuseppe De Vittis, cravatta rossa, caldo, temperature su in aumento. È vero come al solito molto a nord, zona alpine e prealpine nel pomeriggio sempre ci sarà il rischio di rovesci di piogge temporali ma sul resto del territorio, sul nostro territorio, tempo piuttosto bello e come detto anche molto caldo. Ed attenzione, andiamo incontro ad un periodo caratterizzato da temperature in aumento, si soffrirà per molti giorni, forse anche più di una settimana, il caldo anche piuttosto intenso ed insopportabile. Come detto su zone pianeggianti il cielo sarà in prevalenza sereno per tutto l'arco della giornata, temperature che aumenteranno ancora, si soffrirà valori massimi anche attorno oltre i 35 gradi. Quindi prepariamoci davvero, io per ora cari amici ho concluso, non ho altro da aggiungere e rimarremo in balia dell'anticiclone africano. Arrivederci.